Presidente, uno dei cavalli di battaglia dell'Umbria da sempre è stata la prevenzione, in particolare nell'universo femminile. Io immagino che la Regione investirà moltissimo anche in questo suo mandato, vero? Questa di stamattina è un'iniziativa molto importante che vede insieme l'Università e tutto il comparto medicina e quindi l'importanza della prevenzione è assolutamente un fattore determinante proprio per questo tipo di patologie che interessano le donne e in genere un po' per tutte le patologie. Oggi è importantissimo investire culturalmente proprio per veicolare un messaggio fondamentale che prevenire è fondamentale per salvare vite, per scongiurare patologie che possono arrivare ad uno stadio tale per cui creano problemi e situazioni di vita per le donne molto complicate. Quindi sono qui per testimoniare l'importanza di questa iniziativa e il fatto che noi la dobbiamo comunicare perché è un fattore culturale importantissimo cominciare a capire che la prevenzione è fondamentale.